Finito! È l'ora del ruscello! Craig, non hai ancora tagliato i capelli? Perché sei conciato come se nessuno ti sfamasse? Per tua informazione, Bernard, questa pettinatura è afro. È uno stile. Per te è uno stile non vedere dove metti i piedi. Ehi, ci vedo bene! Sono qua giù! E come pensi di entrare nel seggiolino? Mamma! Craig, ci sei tu lì sotto? Mi puoi tagliare i tuoi capelli? Il tuo sciopero dei barbieri è finito, finalmente? No, Detrella era il mio barbiere preferito, ma ha cambiato città. Senza di lui non mi fido più di nessuno. Però mi piace se mi tagli i tuoi capelli. Sono lusingata, tesoro, ma adesso non posso. Accompagno tua sorella alle prove della recita. Faccia il gomito, Craig! Aspetta quando sarò tornata. Forza, Miss Spaghetto, in pentola! Sì, non sono così male. Sembra che tu sia stato attaccato da un gatto. Oh, mi darò una spuntatina. Ops, va bene, ora pareggio sui lati. Ops, è meglio tagliare anche dietro. Ops, torniamo su. Mi sono rovinato la vita. Niente male per una persona. Ci sono pietre dentro? Sì, come premio. Oh. Ehi, JP, non c'ho spazio. JP, no! Mi schiaccerai! Non c'ho spazio! Ciao, Craig. Perché hai il... Oggi noi tre ci dedicheremo al progetto. Oggi? Ma non dovevamo aspettare per costruire... la macchina del tempo. Ehi, la macchina del tempo! Voglio dire, è il progetto. Come mai hai deciso di farla adesso? Perché mi sono tagliato i capelli. Quel putto sembra in Texas. La mia vita è finita! Ehi, tranquillo. Sono solo capelli, amico. Già, scommetto che non se ne accorgerà nessun bambino. Lo pensate sul serio? No, non importa! Starò a casa finché non saranno ricresciuti. Non volevamo ridere, lo giuriamo. Promettiamo di non ridere più dei tuoi capelli. D'accordo, rimango. Così si fa. Ma se vogliamo costruire... la macchina del tempo... dobbiamo rifornirci all'albero del baratto. Ma non voglio farmi vedere conciato così. Indossa un travestimento, non ti riconosceranno. Non funzionerà. No, non esiste. Io rimango qui. Fa come vuoi. Wow! Delle nuove bolle di sapore. È un articolo ricercato. Che volete, in cambio? Gli oggetti presenti su questa lista, gran mercante, servono per un progetto molto segreto. Non è una macchina del tempo? Ecco a voi. Ehi, laggiù. Chi è il vostro amico mitico e solitario? Fantastico! Wow! Wow! È talmente sulle sue... È indifferente. Oh, ci sta ignorando. È un classico. E quei capelli, guarda! Non gli importa niente di niente. Ehi, bambino nuovo! Vieni qua giù! Bambino nuovo? Sei nuovo qui a Russello, vero? Eh, sì. Non sono per niente un cliente abituale. Beh, benvenuto all'albero del baratto. Il primo lo offro io. Ah, grazie! Gentile! Ci si vede in giro! Ehi, forte quel bambino!